Musica Un makerspace è un ufficio Un'officina, una palestra dove le persone possono realizzare ciò che vogliono. Un luogo attrezzato di macchine a controllo numerico, macchine per la digital fabrication e attrezzi per fare cose con gli atomi. Musica Milano è una città ricchissima di iniziative, persone, aziende. Noi tentiamo di fare in modo che le persone possano avere un'occasione di collaborazione attorno a WeMake. Musica Questi luoghi ci sono in molte parti del mondo. E la cosa interessante è che in ogni posto in cui nascono sono legati al territorio, legati alle caratteristiche economiche, produttive, creative del luogo. Milano è una città che parla, lavora molto negli ambiti del design e della moda e sicuramente questi due temi vengono toccati e sviluppati anche all'interno di WeMake. Musica Viviamo in un mondo che è fatto molto di digitale, anche i mezzi di produzione sono molto spesso digitali e quindi capire come funzionano questi strumenti, poterli modificare, poterli costruire, riparare, adattare a quello che si vuole fare è parte di una cultura oltre che di un processo tecnico, economico e produttivo. Musica 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 Musica